è venuta dal nulla sfuggendo al terrore ma un nuovo babau già ne sente l'odore non può trovare pace dietro le porte la sola compagna per lei è la morte salve ragazzi benvenuti nel canale alienologi io sono ali e quest'oggi sono qui per parlarvi di morgan loss scream novels numero 6 la paziente 71 eccolo qui come ben sapete questo qui è l'ultimo numero di questa serie di questa stagione di morgan loss di queste scream novels di cui per me è stato proprio un inizio perché l'ho già detto insomma in altri video io morgan loss non l'avevo mai letto prima delle scream novels sto cercando di recuperare dei vecchi numeri ho recuperato anche il team up con dylan dog che devo ancora leggere vi porterò un video in cui parlerò dell'intera miniserie però ragazzi questa serie di morgan loss è stata la prima la prima le scream novels sono state le prime che ho letto e vi ho portato singolarmente ogni albo insomma singolo poi alla fine farò un video in cui parlerò delle scream novels e ci sarà un mio giudizio complessivo però oggi siamo qui e sono qui per parlarvi di questo numero 6 di questo ultimo numero la paziente 71 allora ragazzi vi dico subito che questa storia per quanto mi riguarda ho finito appunto da poco di leggerla e posso dirvi con certezza che è stata una storia ancora più strana delle altre una storia che a un certo punto mentre la leggevo stavo dicendo no questa non mi sta piacendo perché ci sono alcuni elementi che non mi hanno convinto del tutto ma altri invece sì per cui alla fine il giudizio poi ve lo darò il mio giudizio alla fine di sicuro non è negativo ma nemmeno positivissimo però andiamo con ordine allora partiamo subito dalla copertina di fabrizio de tommaso una copertina che rispetto alle altre ho trovato per quanto mi riguarda per quanto riguarda i miei gusti un po meno ispirata abbiamo morgan che guarda questi queste che sembrano quasi degli uccelli ma in realtà sembrano anche schegge impazzite che è lui che guarda questo questo questa luce che filtra ovviamente la scritta morgan los come al solito come al solito scream novels 66 pagine bianco e nero il prezzo 4,40 euro uscito ufficialmente oggi giovedì 9 dicembre 2021 quest'ultimo numero della scream novels con una copertina come detto sì ben disegnata ovviamente dall'artista fabrizio de tommaso che mi piace come copertinista però questa ad esempio rispetto al penultimo numero ho preferito questa copertina a questa di attuale insomma in quarta questa mi è piaciuta tantissimo perché c'è la faccia di morgan ml morgan los tornerà presto fino ad allora tenete la luce accesa la notte buia e ovviamente poi aprendo l'albo ci sono i dati tecnici ovviamente morgan los è stato ideato da claudio caverotti mensile numero 6 dicembre 2021 la paziente 71 soggetto e sceneggiatura del maestro claudio caverotti disegni di luca maresca che abbiamo già visto in queste scream novels copertina fabrizio de tommaso lettering valentina peirano l'introduzione è molto interessante perché si inizia con la notte di natale è così vicina che pare di poterla toccare molto poetica e ci dice il fatto cosa potrebbe rappresentare natale cosa rappresenta natale per le varie personalità per tutte le persone ma cosa rappresenta natale per l'universo di morgan lost dicendo che sì questo sarà l'ultimo numero delle scream novels però gli autori stanno già scrivendo perché quando meno ve lo aspettate io penso verso maggio giugno quindi primavera in oltrate estate morgan lost tornerà ma di che cosa parla questo numero la paziente 71 allora i disegni di luca maresca li conosciamo per me è un buonissimo disegnatore ha saputo rappresentare bene bene le atmosfere di questa storia che vede come protagonista ovviamente questa ragazzina questa marianne che è chiusa all'interno di un istituto morgan cercherà di più che altro questa ragazzina sarà chiusa all'interno di un istituto ma sarà poi rapita da wall and dream dalla famosa nemesi di morgan lost i disegni ecco vediamo qui wall and dream i disegni sono ben congeniali alla storia c'è anche un po di violenza come è giusto che sia perché in morgan lost c'è sempre stato vediamo proprio morgan come rappresentato e devo dire che i disegni di luca maresca mi sono piaciuti la storia di chiaverotti come ho già detto nell'introduzione sia una storia che mi ha convinto a metà perché ci sono state delle cose all'interno della storia non molto chiare ma forse è un problema mio perché non ho letto tutte le vecchie storie magari è qualcosa di legato alle vecchie stagioni di morgan però invece mi sono piaciute altre cose come ad esempio il rapporto che ha morgan nel senso che vuole riuscire a salvare questa ragazza questa paziente 71 questa mary ann la storia inizia così che c'è questo personaggio nel tempo della burocrazia ecco che si sveglia praticamente e poi c'è l'introduzione di wall and dream insieme a sua madre una madre non biologica poi insomma non vi dico tutto non voglio sperare di tutto ma quando leggerete capirete e anzi se avete letto le vecchie secondo me è qualcosa di legato alle vecchie stagioni le vecchie serie di morgan lost morgan ovviamente incontrerà i grain la ragazza che era già nello scorso numero che era implicata nella storia dei balcani nella serbia in questo numero insomma che ne ho già parlato nel nel insomma il mese scorso e praticamente morgan cercherà andrà al sigmund freud clinic la clinica dove c'è dove c'è questa ragazzina questa mary ann e però non la troverà perché sarà rapita da wall and dream ci sarà anche ripercorsa anche la storia di della ragazzina quando era più piccola una storia come un sogno ragazzi come un sogno come spesso accade come un incumo come spesso accade le pagine di morgan lost perché morgan lost ragazzi per chi non l'avesse mai letto io posso dirvi che è un fumetto molto particolare ma perché è nato dalla mente di claudio chiaverotti che conosciamo bene che è un visionario ragazzi è un genio però molte volte le storie di claudio chiaverotti sì sono molto belle perché è veramente bravo ma certe volte ti lascia senza fiato nel senso io a metà dell'albo stavo dicendo no ragazzi no tra me e me dicevo non mi sta piacendo questo albo però poi non vi dico cosa finisce ma non dico verso il finale ma da un certo punto verso la fine poi la storia si riprende la grande un po schizofrenica come storia c'è qui c'è anche un po d'azione delle sparatorie una storia alquanto schizofrenica che io definirei comunque più che sufficiente non la migliore sicuramente per quanto mi riguarda non è la migliore di questi sei numeri delle scream novels ma la paziente 71 è un numero che ti mette all'angolo cioè nel senso ti fa capire come sono i rapimenti nel senso ti fa capire la mente umana la psicologia e la psiche della mente umana in questo caso anche della ragazzina Mary Ann ma di Morgan Lost di Wallen Dream della sua madre non biologica insomma ti fa capire tante cose e per questo io mi sento comunque di promuovere questo albo poi come detto vi farò un video comprensivo di tutti e sei i numeri vi dirò il mio giudizio su queste scream novels ma penso l'abbiate capito più o meno diciamo che di sei numeri la maggior parte mi sono piaciuti diciamo che almeno 4 su 6 sono promossi però non vi dirò quali perché altrimenti non mi guardate poi non mi guarderete il video che farò comprensivo delle scream novels però che dirvi ragazzi questa è una cosa bellissima un quarto di copertina con il fatto che Morgan tornerà presto e la copertina senza infame senza lode di sicuro inferiore alla precedente come detto i disegni buoni la storia schizofrenica la storia senza dubbio ha delle parti non molto comprensibili ma altre invece che ti fanno dire finalmente ho letto cioè ho letto un fumetto sono contento di aver speso 4 ore 40 per un fumetto che comunque magari non sarà per quanto mi riguarda una delle migliori letture che abbia mai fatto ma sicuramente intrattiene bene ed è una lettura scorrevole questo formato il formato audace ragazzi a me piace dirmi quello che volete 66 pagine a me non piacciono i fumetti troppo lunghi non amo i fumetti da 160 pagine poi dipende anche dalle storie dei personaggi però questo formato non mi dispiace affatto anzi devo dire che mi piace per cui ragazzi che dirvi io come detto farò un video a parte per spiegarvi le scream novels se mi sono piaciute oppure no in linea di massimo però l'avete già capito più o meno che mi sono piaciute ma vi elencherò delle cose che mi sono piaciute le cose che non mi sono piaciute e farò un bilancio finale però questo numero morgan law scream novels numero 6 la paziente 71 il numero che va a concludere la stagione delle scream novels devo dire che alla fine è promosso è promosso pur con i suoi difetti e come dire i suoi pregi i suoi difetti però è un numero che secondo me se avete letto ovviamente tutte le scream novels dovete prendere quindi consiglio se invece volete iniziare a leggere questo numero diciamo che potreste anche iniziare però dato che non sono tutti i numeri collegati sono storie autoconclusive però non so se insomma non so se sia la scelta più giusta intanto però ragazzi ovviamente vi ringrazio per aver visto il video vi ringrazio per tutto il supporto che mi date se per la prima volta guardate il mio video vi è piaciuto quello che propongo i contenuti che porto iscrivetevi pure al canale attivate la campanella per le notifiche presto ci saranno delle novità anche con il nuovo anno tornerò a fare almeno una live a settimana perché comunque quando ho fatto le live sicuramente c'è stata una bella presenza ed è sempre bello scambiare due chiacchiere con voi io come al solito ancora vi ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao